Sono Gary Faulkner, il suo lascia passare per in tutto fare. Gary Faulkner? Ma sì, Mitchell. Alle superiori mi sono fatto tante di quelle fantasie su di te che avrò consumato cento scatole di Kleenex. È disgustoso quello che hai detto, ma lo accetto. Non sanno più che pesce pigliare. Così non riusciranno mai a prendere billade. Ciao, Gary. Oh, santa merda. Dio. Devo chiederti un favore, Gary. Un favore? Io vorrei che tu andassi in Pakistan a catturare quel figlio di puttana di Osama Bin Laden per me. È chiaro? Sì, certo. Io ho fatto il piano e il piano è comprare una barca, arrivare in Pakistan, catturare Osama Bin Laden e riportarlo in America per il processo. Tu hai idea di come si guidi una barca? Marci! Ok, pagliacci! Scetti, c'è i doppiosi! Sembra che io stia ancora navigando! Siamo in Pakistan? No, signor. E quindi sai che cosa faccio? Compro un deltaplano per andare in Pakistan. Mi sembra pericoloso. Quindi chi è questo tizio? È Gary Faulkner. Lavora come tutto fare. E sta cercando Osama Bin Laden. Non sai nemmeno dove stai andando. Perché non mi aiuto? Sei obbliscente, vero? Conosco ogni tuo pensiero prima di te, ma lasciatelo dire. Gran parte di questi pensieri sono parecchio stupidi. Ma sei in missione per conto di Dio. Non hai tempo di pensare a me. Pensi a uno stile di vita domestico, a come sarebbe carino. Questa è una sacra ricerca. Le sacre ricerche sono impegnative. Allora sai che c'è? Fai il tuo lavoro, trovi quel tizio, lo porti qui e lo neutraliziamo. Sali sul camion. Oh mio Dio! Smettila di dirmi sì, signore. Sì, signore. Ho detto di non dire. Oh mio signore. Cos'è questa cosa ora? Che fai? Non sono aladino. Non sono il genio. Sì, signore. Sì, signore.